Ciao filoteliane, oggi faccio un esperimento e se mi riesce lo vedremo tutti in diretta. Ho rispolverato questa macchina e più di un anno che è imballata a casa mia l'ho aperta oggi, ho attaccato il cavo della corrente, adesso l'accendo e vediamo se succede quello che prevedo. Praticamente cosa succede quando una macchina sta per tantissimo tempo, parlo dell'elettronica, non di una meccanica. Quando una macchina elettronica sta per tantissimo tempo spenda, quando l'accendiamo di solito 9 volte su 10 saltano sia i condensatori che i fusibili. Quindi niente di paura, adesso io l'accendo e aspettiamo insieme. Ecco la macchina si è accesa, vi faccio vedere che si è accesa e adesso aspettiamo se succede quello che prevedo. Non so quanto tempo è che è spenta, vediamo. Sentite il rumore, avete sentito il rumore, ma non ha fatto tanto fumo, tanto è vero che la macchina si è spenta. Impressionante, non ha fatto fumo, ma lo scoppio si è sentito. Praticamente in questa macchina adesso si sono bruciati i fusibili e sicuramente sono scoppiati i condensatori. Adesso la apro, la pulisco, tiro via tutto il blocco dove c'è l'interruttore, intanto stacco il cavo della corrente perché ormai sono saltati, anche se non ha fatto tanto fumo, però lo scoppio si è sentito. Tiro via il blocco di destra, cambio i fusibili, i condensatori e poi la metto in sesto. Grazie a tutte! Grazie a tutti! Grazie a tutti!